Perchè fai il caffè? Perchè faccio? Perchè continui a fare la serva? Perchè se viene la sora mi iscritte, non vuole che faccia il caffè in camera, dici che mi fa male, ma a che? Quando lo raccoglievo in Guatemala lo facevamo fresco il caffè, direttamente dalle piante, quello si che era buono. Questa è merda, ma non sono certo nella posizione. Possiamo ricominciare? Allora, dopo il confronto cos'è successo? Vuole parlare con lui? Stavamo per prendere il caffè. Non desidero parlare con lui e non desidero neanche che il vostro caffè si raffreddi, d'altronde io amo il vostro caffè, dica, da Henrik. E questa qui è roba da rieccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da buon gustai, ma come la fai questa meraviglia? Piantala, Giulio. Che c'è? Non c'è bisogno che tu mi venga a dire che il mio caffè è buono, intesi? Sono io che lo compro e so quanto è buono. Quando è Bonny a fare la spesa compra delle cagate. Io compro sempre roba gustosa perché quando la bevo voglio gustarla. E quando torni ti dico di fare il caffè, tu fai il caffè. Ma lo sai che cosa ho in testa in questo momento? Non è il mio caffè nella mia cucina. Questo caffè fa schifo? No, mica tanto. Come no? Fa proprio schifo. E tu non lo bevi. Te lo sapevo, tutte le volte non mi abituarò mai. Sembra di bere sabbia, sembra. Devi lasciare depositare il fondo. Bisogna sapere aspettare. Sentire il profumo e aspettare. Questo è il piacere. Ma cosa stai dicendo? Il caffè è un caffè, tu vai in un bar, la cosa più veloce. Vuoi un caffè, lo pigli e te ne vai. E che cazzo? Aspetta, tu ti... Aspettare, cosa devi aspettare? Quanto è vecchio questo caffè? In genere il caffè lo faccio una volta alla settimana, anche se ne è rimasto un po' da quella prima. Vuole un po' di questa brodaglia che passa per caffè in questi giorni? No, grazie signor. Ho reso che abbiamo di succo. Il caffè è di geranium. Tutti i giorni, negli ultimi dieci anni, la barista mi ha servito una tazza piena di caffè amaro. Oggi invece si è sbagliata, perché ci ha messo lo zucchero. Tanto zucchero. E sono tornato per protestare. Fate i bravi, posate l'artiglieria. Solo che adesso invece della pistola usa il caffè. E che stai a guardare? Avanti, muovete con il caffè, forza. E ora lo faccio, andiamo. E ora che fai? Era uno scherzo, uno scherzo. Mettevi alla caffettiera. Va bene, va bene. Ho portato il caffè. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.